Assolutamente, adesso lo raggiungerò a casa sua e cercheremo la soluzione migliore per il Palermo, ci parleremo. Potrebbe essere il ritorno di Iachini la soluzione migliore per il Palermo? Non lo so, ne parlerò col Presidente e valuteremo da farsi. E' logico che noi siamo consci di questo, il Presidente l'ha ribadito, dobbiamo intervenire sul mercato con 4-5 giocatori, è normale che i 4-5 giocatori devono essere giocatori che sappiano dare qualcosa nell'immediato. Anche lì dovrò sentire il Presidente stasera, ma credo di no, bisogna preparare benissimo la partita di domenica. Domenica, ripeto, abbiamo il Frosinone e io sono convinto che possiamo passare con questa squadra. Mi aspettavo questa situazione, si sa che il campionato di Serie A è pieno di insidie, questo è sicuro, non me l'aspettavo, perché la squadra sicuramente ha dei valori che, ripeto, bisogna cambiare marcia, ma siamo ancora in tempo per farlo e sicuramente dobbiamo rimediare. Non c'è stata la crescita, come pensavamo, di alcuni giocatori.